Il cuono partia benissimo, che è di ceri, segna i suoi primi due punti della partita. Ok, ancora Mosi su Poeta, il cuono si deve prendere questo tiro e lo segna e scuote un po' la Vanoli. Qui il cuono si alza da tre punti e segna David Reginald Cuonu, come viene l'attacco di Cremona, Cuonu sfida, Kalinowski va per il tiro, da tre punti David Reginald Cuonu e più tre, vantaggio per Cremona dopo non so dire neanche quando.